Analisi del respiro sia come metodo di diagnosi precoce di alcuni tumori che per la valutazione e il monitoraggio dello stato di salute della popolazione. Di questo e delle attività del CERBA, il centro regionale di Breath Analysis, ospitato all'interno dell'Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari, si è parlato nel corso di una giornata di approfondimento che si è tenuta nella sala conferenze dell'oncologico. Il test del respiro consente di determinare precocemente le alterazioni metaboliche di natura fisiologica, patologica o legate a esposizione ambientale. Per effettuare l'analisi del respiro si utilizza un macchinario particolare, il campionatore Mistral, che lo raccoglie ed elabora una sorta di impronta digitale del respiro. Tramite un boccaglio monouso il paziente soffia all'interno del campionatore che permette la raccolta dell'espirato su una cartuccia e dell'aria circostante su un'altra. Le cartucce vengono inviate in laboratorio per l'analisi e la caratterizzazione dei campioni. Dall'analisi si ottiene poi questa impronta digitale che racchiude informazioni utili e individuare precocemente spie della presenza di alcune malattie. Si occupa di determinare i metaboliti gassosi, le sostanze gassose presenti nel nostro organismo che possono essere segnale di una patologia perché sta aumentando la loro concentrazione o diminuendo. Come si fa per il sangue o per le urine? Si rintracciano dei biomarker per verificare quanto è avanti la malattia oppure se c'è malattia o no o semplicemente per verificare lo stato di salute. Ed è molto facile seguirla perché anziché fare un prelevo di sangue basta soffiare in un palloncino come ha visto in questo strumento e quindi dà la possibilità anche di fare uno screening molto ampio per la popolazione perché non sono indagini particolarmente invasive. In Puglia sempre più pazienti potranno beneficiare della tecnica dell'analisi del respiro per la diagnosi precoce non invasiva delle patologie oncologiche. L'avvio del nuovo studio relativo al tumore al colon retto vedrà il confronto della metodica sviluppata con quella convenzionale di rilevazione del sangue occulto nelle feci. Siamo partiti dalla diagnosi precoce del mesotelioma e del tumore del polmone e ad oggi abbiamo scrinato oltre 300 pazienti. Ma stiamo estendendo il focus della ricerca scientifica anche attraverso l'utilizzo dello stesso macchinario ma nell'ambito del tumore, dello screening del tumore del colon retto. Affiancandolo in maniera parallela per avere un riferimento, affiancandolo a quello che è lo strumento, la procedura standard che è il sangue occulto nelle feci. Quindi per verificare l'attendibilità di questo macchinario, di questa tecnologia, proprio anche per lo screening del SOF. Quindi parallelamente verifichiamo gli esiti di queste due ricerche. Siamo molti contenti perché quando si uniscono le forze di diverse istituzioni, di diversi enti di ricerca, poi la cosa bella è che riusciamo a tirar fuori degli esami assolutamente non invasivi, molto semplici, ma che possono garantire una diagnosi preventiva, precoce, ma soprattutto anche una terapia molto più personalizzata. E soprattutto la cosa che a noi interessa sottolineare è che più siamo veloci nella diagnosi e più efficace è anche la terapia.